al momento della morte aveva raggiunto il grado di presidente della corte di cassazione era un magistrato integerrimo la cui vita senza macchia veniva citata come esemplare in ogni tribunale francese gli avvocati i giovani consiglieri i giudici s'inchinavano profondamente in segno del massimo rispetto alla sua alta figura bianca e asciutta illuminata da due grandi occhi dallo sguardo profondo aveva trascorso la vita punendo i delinquenti e proteggendogli indifesi truffatori assassini non avevano nemico più spietato poiché egli sembrava leggesse nel fondo delle anime loro i pensieri più nascosti e svelasse con un'occhiata tutti i loro sotterfugi intenzionali così era morto a 82 anni ossequiato da tutti e rimpianto da tante persone soldati in alta uniforme lo avevano scortato sino alla tomba e uomini in cravatta bianca avevano sparso sul suo monumento funebre parole di desolazione e lacrime che sembravano vere ebbene ecco lo strano documento che il notaio al colmo dello sballordimento scovò nello scrittoio in cui il magistrato era solito riporre gli incartamenti relativi ai grandi delinquenti quel documento aveva un titolo perché 20 giugno 1851 torno ora dal tribunale ho fatto condannare a morte blondel perché mai quest'uomo ha ucciso i suoi cinque figli perché ho incontrato spesso persone per le quali la distruzione di una vita è uno dei maggiori piaceri già deve essere come una volutà forse la maggiore tra tutte e infatti uccidere è quanto c'è di più vicino a creare creare e distruggere queste due parole racchiudono la storia dell'universo tutta la storia del mondo tutto ciò che può esistere tutto perché uccidere deve essere così inebriante 25 giugno pensare che lì c'è un essere il quale vive cammina corre un essere che cos'è mai un essere è la cosa animata che porta in sé il principio del moto è una volontà che regola il moto non ha vincoli di sorta i suoi piedi non toccano il suolo è un granello di vita che si muove sulla terra e questo granello di vita venuto non si sa da dove può essere distrutto come si vuole resta allora il nulla il nulla assoluto l'essere imputridisce e basta 26 giugno perché dunque uccidere dovrebbe essere un delitto già perché è invece una legge naturale ogni essere ha la missione di uccidere uccidere è insito nella nostra natura le bestie non fanno che uccidere uccidono per vivere e uccidono per uccidere tutto il giorno in ogni istante della loro esistenza un uomo uccide continuamente per cibarsi ma poiché ha anche bisogno di uccidere per volutà ha inventato la caccia un bimbo uccide gli insetti che trova e ogni sorta di animaletti che gli capitano sotto mano ma questo non basterebbe all'irresistibile necessità di strage connaturata in noi uccidere gli animali non ci appaga abbiamo bisogno di uccidere l'uomo un tempo questa necessità veniva appagata con i sacrifici umani oggi le esigenze della vita sociale hanno fatto dell'uccisione un delitto e l'assassino viene condannato e punito ma poiché non possiamo vivere rinunciando a questo naturale imperioso istinto di morte ogni tanto ci sfoghiamo con una guerra nella quale un popolo intero sgozza un altro popolo e allora è un'orgia di sangue un'orgia in cui impazziscono gli eserciti un'orgia nella quale si inebriano anche i borghesi le donne e i ragazzi che la sera sotto la lampada leggono l'esatto resoconto delle stragi si potrebbe credere che la vergogna dovrebbe schiacciare coloro che sono destinati a eseguire carneficine di esseri umani no li si colma di onori li si veste d'oro e di stoffe smaglianti e si portano piume sul capo decorazioni sul petto a loro vengono conferite croci di guerra ricompense e titoli d'ogni sorta sono orgogliosi, rispettati amati dalle donne acclamati dalle folle soltanto perché hanno avuto la missione ufficiale di versare sangue da altri uomini e si mostrano, imparata per le strade e i loro strumenti di morte che il passante in abiti borghesi guarda con invidia perché uccidere è la legge fondamentale che la natura pone nel cuore umano non c'è niente di più entusiasmante niente di più onorevole che uccidere 30 giugno uccidere e legge poiché la natura ama l'eterna giovinezza essa sembra urlare in ogni suo atto primordiale presto, presto, presto più si distrugge, più si rinnova 2 luglio l'essere che cos'è l'essere? tutto e niente per il pensiero filosofico è il riflesso di tutto per le memorie per le scienze è un compendio dell'universo di cui si porta in sé la testimonianza storica specchio delle cose e specchio dei fatti ogni essere umano diventa un piccolo universo nell'universo ma viaggiate osservate il formicolare di tutte le razze e allora l'uomo non è più nulla più nulla più nulla salite in barca allontanatevi dalla riva aggrimita di gente presto non scorgerete più che la costa l'essere umano diventa impercettibile scompare tanto è minuscolo e privo di significato traversate l'Europa in un treno rapido e guardate dal finestrino uomini uomini ancora uomini innumerevoli sconosciuti che brulicano nei campi che brulicano nelle strade stupidi contadini che sanno appena dissodare la terra donne schifose che sanno appena fare la minestra per maschi e generare andate in India andate in Cina e vedrete anche lì agitarsi milioni di esseri che nascono vivono e muoiono senza lasciare traccia maggiore di quella che lascia una formica schiacciata per via andate nei paesi della razza nera dove ci si ripara in capanne di fango nei paesi degli arabicchiari di pelle dove ci si metta il riparo sotto una tenda grezza che ondeggia il vento e capirete che l'essere singolo isolato non è niente assolutamente niente la razza è tutto che cos'è l'individuo l'oscuro individuo di una tribù che erra nel deserto queste popolazioni nella loro saggezza non temono la morte per loro l'uomo come individualità non conta nulla si uccide un nemico è la guerra la stessa cosa che una volta da noi opponeva castello a castello provincia a provincia girate il mondo osservate il lavorio di tante esistenze umane sconosciute sconosciute ecco la chiave del problema uccidere è un delitto in quanto abbiamo numerato gli individui quando nascono vengono registrati si da loro un nome vengono battezzati la legge li fa suoi invece un individuo che non è registrato non conta si può uccidere in una landa o nel deserto in montagna o in pianura che importanza ha la natura ama la morte non punisce lei lo stato invece può uccidere perché ha il diritto di modificare l'anagrafe quando ha fatto massacrare 200.000 uomini in una guerra li cancella dallo stato civile li sopprime per mano di un burocrate è finita ma noi noi che non possiamo mutare le registrazioni comunali noi dobbiamo rispettare la vita stato civile divinità gloriosa che imperi nei templi della municipalità io ti saluto tu sei più forte della natura 3 luglio uccidere deve dare un piacere strano un piacere intenso avere davanti a sé un essere vivente pensante far dentro di lui un buchetto soltanto un buchetto veder scorrere quella cosa rossa che chiamiamo sangue il sangue che forma la vita e avere dopo davanti a sé solo un mucchio di carne fredda molle inerte vuota di pensiero 5 agosto se io che ho passato tutta la vita a giudicare condannare uccidere con la mia parola e uccidere con la ghigliottina quelli che a loro volta avevano ucciso quel coltello se se io io facessi come tutti gli assassini che ho condannato io io chi mai potrebbe venire a saperlo 10 agosto chi verrebbe mai a saperlo chi potrebbe sospettare di me di me specie se scegliessi qualcuno che non avesse interesse a sopprimere 15 agosto la tentazione è entrata dentro di me come un verme che striscia striscia avanza serpeggia in tutto il mio corpo nell'animo mio che ormai pensa soltanto a questo uccidere nei miei occhi che hanno bisogno di vedere il sangue di veder morire nelle mie orecchie dove risuona senza posa un sussurro sconosciuto orribile straziante sconvolgente l'ultimo grido di un essere umano nelle mie gambe che fremono dal desiderio di andare di andare sul luogo dove avverrà la cosa nelle mie mani che rabbrividiscono per il bisogno di uccidere uccidere piacere raro degno ad un uomo veramente libero e superiore a tutti gli altri padrone delle proprie passioni e anelante raffinate sensazioni 22 agosto non potevo più resistere ho ammazzato una bestiola per provare per cominciare jean il mio domestico aveva un cardellino in una gabbia sospesa alla finestra della dispensa l'ho mandato fuori per una commissione e ho preso in mano l'uccellino sentivo battere il suo cuore nella mano l'uccellino aveva caldo sono salito in camera mia ogni tanto lo stringevo più forte e il suo cuore batteva più veloce era atroce era stupendo stavo per soffocarlo ma così non avrei veduto il sangue allora ho preso le forbici quelle per le unghie gli ho tagliato la gola con tre colpi ad agio ad agio apriva il becco si dibatteva per scappare ma io lo tenevo oh come lo tenevo stretto l'avrei tenuto prigioniero un mastino idrofobo ho visto scorrere il sangue come bello rosso lucente limpido avevo voglia di berlo vi ho tuffato la punta della lingua è buono ma ne aveva così poco quel povero uccellino non ho avuto il tempo di eccitarmi a quella vista come avrei desiderato vedere un toro che si dissangua deve essere uno spettacolo superbo e poi ho fatto come gli assassini come i veri assassini ho lavato le forbici mi sono lavato le mani ho buttato l'acqua e ho portato quel corpicino morto in giardino l'ho sepolto sotto una macchia di fragole nessuno lo troverà mai e io mangerò ogni giorno una fragola di quella macchia davvero come si può godere la vita quando si conoscono certi piaceri il domestico ha pianto crede che l'uccellino sia fuggito come potrebbe sospettare di me 25 agosto bisogna che uccida un uomo è necessario 30 agosto l'ho fatto sono deluso ero andato a fare una passeggiata nella foresta di Vernet non pensavo a niente no proprio a niente ed ecco sul mio sentiero un ragazzino mangiavo una fetta di pane imburrato si ferma per lasciarmi passare e dice buongiorno signor presidente subito un pensiero si fa luce nella mia mente se lo uccidessi rispondo sei solo ragazzo mio sì signore solo solo nella foresta sì signore ero ebro come se avessi bevuto per il desiderio di uccidere mi avvicinai a lui pian piano convinto che sarebbe scappato ecco che l'afferro alla gola stringo stringo con tutta la mia forza mi ha guardato con occhi terrorizzati gli occhi rotondi profondi limpidi terribili non ho mai provato un'emozione tanto forte ma anche così breve teneva i miei polsi nelle sue manine e suo corpo si contorceva come una piuma sul fuoco poi non si è più mosso il mio cuore batteva forte ah il cuore dell'uccellino ho buttato il corpo in un fosso e poi l'ho sparso sopra delle frasche sono tornato a casa ho mangiato con buon appetito una cosa da niente alla sera ero allegro leggero ringiovanito ho passato la serata in casa del prefetto hanno trovato tutti che ero in vena di spiritosaggini ma non ho veduto il sangue comunque adesso sono tranquillo 30 agosto hanno trovato il cadavere cercano l'assassino primo settembre hanno arrestato due vagabondi però mancano le prove 2 settembre i genitori del ragazzino sono venuti da me hanno pianto 6 ottobre non si è trovato nulla sarà stato qualche vagabondo se avessi visto scorrere il sangue adesso mi pare potrei essere tranquillo 18 ottobre il desiderio di uccidere mi serpeggia nelle midolla è una sensazione simile a quella delle crisi d'amore che si provano sui 20 anni 20 ottobre un altro dopo colazione camminavo in riva al fiume ho intravisto un pescatore addormentato sotto un salice era poco dopo mezzogiorno c'era una vanga che sembrava messa lì apposta infissa in un campo di patate l'ho presa sono tornato indietro l'ho alzata come una mazza e con un colpo solo col ferro gli ho spaccato la testa quanto sangue questa volta sangue vermiglio pieno di materia cerebrale scorreva anche nel fiume ad agio ad agio mi sono allontanato con passo sicuro se qualcuno mi avesse visto sarei potuto diventare un assassino perfetto 25 ottobre l'episodio del pescatore fatto scalpore accusano del diritto a un nipote che era andato a pesca col morto 26 ottobre il giudice istruttore sostiene che il nipote è colpevole in città ne sono tutti convinti 27 ottobre il nipote si difende molto male sostiene che era andato al villaggio per comprare del pane e del formaggio giura che lo zio è stato ammazzato mentre lui era via chi lo crederà 28 ottobre gli hanno fatto perdere la testa a un punto tale che ha quasi confessato ah la giustizia 15 novembre hanno trovato prove schiaccianti contro il nipote che avrebbe ereditato i beni dello zio io presiederò la corte d'assise 25 gennaio a morte a morte l'ho fatto condannare a morte il pubblico ministero ha parlato come un angelo ah un altro andrò a vederlo mentre gli mozzeranno la testa 18 marzo è fatta l'hanno ghigliottinato stamattina è morto bene anzi benissimo come sono contento è bello veder tagliare la testa ad un uomo il sangue è sprizzato come un'ondata sì come un'ondata se avessi potuto avrei voluto farsi il bagno dentro deve essere inebriante lottolarsi a terra là sotto quel getto riceverlo nei capelli e sulla faccia e diventare rosso rosso ah se sapessero ora aspetterò posso aspettare ci vorrebbe poco a farmi scomparire il manoscritto conteneva molte altre pagine ma in esse non si faceva menzione di altri delitti gli alienisti a cui è stato sottoposto questo testo sostengono che nel mondo esistono molti dementi che vengono ignorati da tutti sono scaltri e terribili come questo pazzo mostruoso